oggi ci troviamo sulla salita proprio che porta al monte venda che c'è la caserma vi saluto da un amico mi saluta un abbraccio forte su tutti i miei appassionati di youtube di facebook grazie signore questa è la mia bici e ve la faccio vedere la mia bicicletta e vi faccio vedere un po la salita da padova sono andato a maserà maserà ho fatto due carare poi sono andato strada battaglia monte grotto torreglia e sono arrivato in cima al monte venda fatto la tutta la salita torreglia fino qui faccio vedere un po della salita il tempo non è tanto bello tutto sudato ho fatto tutta una tirata fissa però soddisfazione dai ok 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 faccio vedere un pezzo di salita finale poi ritorniamo su oggi il sole non c'è c'è un po di foschia il cielo in nuvolo la strada è abbastanza non messa bene come vedete dopo si va giù in discesa io non rischio niente perché vado piano perché un attimo farsi male a me mi interessa andare su sulla salita e da la soddisfazione vedete la strada com'è non è che sia messa bene qua ci sono dei signori in compagnia vedete che la strada non è tanto messo bene un po tutta la strada con delle buche andate a fare una camminata andiamo su agli olive e tagli e ora vi saluto ciao buona giornata anche a voi buona giornata anche il signore qua in corsa buona giornata ciao che bello ciao come vedete arriviamo su un tornante eccomi fermo qua diciamo che il pezzettino finale è questo qui qua ci sono dei sentieri vedete poi abbiamo questo sentiero Montevenda e poi abbiamo questo buongiorno signora signora mi faccia un saluto per tutti i miei appassionati su youtube e facebook la saluto dal Montevenda viene a messa viene a messa adesso? non posso mica sono in bici come faccio? no devo andare a casa tutto sudato per carità la saluto ho fatto male non portare via la mantellina eh va bene dai però la temperatura è abbastanza su non è che adesso vado sopra eh ho fatto male no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. La strada come è messa. Peccato che non la sistemano bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo è più alto, dove arriva la strada sui 500 metri. Vedete c'è la caserna. E' un posto militare. E' un posto militare. Salve signore, non ho inquadrato lì. Questa è la mia bici, adesso io parto.